1, 2, 1, 2, 3, molleggia, 1, 2, 3, ritorna, 1, 2, 3, stop! Bene, da qui, quadrato, con la gamba a sinistra, 1, 2, 3, 4. Io direi di farlo fino qua perché fino qua... Sì, infatti, già basta. C'è a me riscordato, proviamo allora. Per la musica! Vediamo, eh! Rescaldamento! Pronti? Va! Lentamente! 1, 2, 3, ritorna! Parato! 1, 2, 3, siapro! Di nuovo, di nuovo! Vamos! Senta riscaldamento tutti! Via! Lento! Molla! Ritorna! Guarda la gamba a sinistra! Stop! Ultimo! 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 Ci siamo! Da qui, gamba a sinistra! Mambo! Ma con le manine? Tuk! Tuk! Si, un po' ti può dare così come me! Tuk! 50 euro buco in culo, così, capisci? E va bene a festa! Oh, stai un micro catechismo! Dai, su! Allora, dal quadrato... C'è la crisi, non si può essere prezzi! Dal quadrato... Dal quadrato! Partiamo dal quadrato col sinistro, eh! Via! Uno, due, tre... Mambo! 50 euro... Ok! Una volta sopra! Cioè, sinistra... Vai un po' più dietro! Guarda, Rupi vado volentieri anche avanti! No, no, no! C'è un problema! E poi lo sai! Fai finta di niente, burlone! Dal quadrato, di nuovo! Via! Uno, due, tre... Mambo! Sinistro! E stop! Fatto il mambo, si riparte dal capo, tipo la dinus! Uno, due, tre... Ah! 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 Buona musica! Allora, tutto? Stringete bene i minuti! Sì! Rassi a via! Sì! Questa canzone se ne vuole più! Lento! Ah! Ah! Adriano! Ritorna! Quadrato! Uno! Mambo! Un! Un! Punto attacco! Cha-cha-cha! Punto attacco! Avanti due passi! Uno! Due! Uno, due! Adriano! Uno! Ritorna! Quadrato! Mambo! Punto attacco! Punto attacco! Vai che facciamo un giro! Avanti due passi! Uno! Uno! Adriano! Ritorna! Qua! Quadrato! Mambo! Punta! Qua! Qua! Ok, 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 vai! Dai, lo facciamo tutto! Vediamo se... Qua! 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 Brava! Grazie mille! Oh... E allora sì... Uh... E allora sì, se comincia la serata, andiamo un ventino adesso, cambiamo. Andiamo a ballare un attimino... E poi...